Bellardita, qual è il pensiero che esprime Jalensis Populus sulla riforma varata ieri dall'Assemblea regionale siciliana in merito ai liberi consorsi e alle città metropolitane? Sì, ieri è stata definitivamente votata e quindi approvata la legge 15 2015 nella sua riformulazione a seguito dell'impugnativa governativa. L'impugnativa governativa riguardava quattro punti. L'approvazione di questa legge 15 2015 assorbe tre delle motivazioni di impugnazione del governo nazionale. Lascia invece fuori una ragione, una criticità, che era quella che riguardava in prima battuta la coincidenza dei sindaci delle città di Catania, Palermo e Messina con i sindaci delle tre aree metropolitane. In maniera molto più pratica, domanda ricorrente, quando Gela entrerà a far parte della città metropolitana di Catania anche in merito a quello che è accaduto ieri? Allora, in ordine a quello che è accaduto ieri sostanzialmente noi temiamo che il fatto che sia rimasta fuori questa ragione di criticità e di impugnativa governativa non faccia demordere il governo nazionale dall'impugnativa che ricordiamo è ad oggi in atto. Invece, per quanto riguarda il completamento dell'iter di passaggio, nulla a che vedere con quello che si è celebrato ieri all'Assemblea regionale. Nel senso cioè che ancora serve il decreto di giunta che deve a sua volta approdare all'Assemblea regionale. il decreto di giunta che è quello che sostanzialmente ridisegna i confini e su questo noi ci aspettiamo assolutamente celerità anche perché ricordiamo che tutto l'articolo 44 e quello che era previsto nell'articolo 44 non è mai stato oggetto di impugnativa governativa per cui ci aspettiamo assolutamente conseguenzialità in questo senso dal governo regionale e l'Assemblea regionale non potrà far altro che prenderne semplicemente atto. E questo quando accadrà? Siamo in estremo ritardo perché l'assessore ci aveva detto che sarebbe tutto approdato all'Ars immediatamente dopo l'approvazione della finanziaria, cosa che ad oggi non è stata fatta e siamo ancora in attesa.